Nel cuore della storia della Chiesa c'è una figura che brilla come un faro nella notte dei secoli, San Damaso. Nato in Spagna e cresciuto a Roma, questo uomo di straordinaria intelligenza e profonda pietà ha lasciato un'impronta indelebile nella storia religiosa. La sua vita, un intreccio avvincente di sfide e trionfi, è un racconto di dedizione, zelo e amore per la fede che continua a risuonare attraverso i secoli. Accompagnami in questo viaggio attraverso la vita di un uomo la cui eredità è ancora oggi viva e vibrante nella storia della Chiesa. San Damaso, nato nella Spagna del IV secolo, si distinse per la sua formazione a Roma e la sua rapida ascesa all'interno della Chiesa. Quest'uomo di grande intelligenza e profonda pietà venne presto ordinato sacerdote e divenne stretto collaboratore del Papa Liberio. Tuttavia la sua elezione a Papa non fu priva di difficoltà. Dovette affrontare l'opposizione di Ursicino, un prete ambizioso che mirava alla sua stessa posizione. Nonostante questo, Damaso mantenne saldo il suo impegno e con il supporto del popolo affermò la sua autorità. Il suo pontificato, che durò vent'anni, fu un periodo di notevoli sfide e successi. Si impegnò attivamente nella riforma della Chiesa, con particolare attenzione alla formazione del clero e alla promozione di una vita comune per chierici e monaci. Organizzò anche due concili contro le eresie del suo tempo. Tuttavia l'opera più duratura di Damaso fu l'incarico a San Girolamo di tradurre la Bibbia in latino, un progetto che avrebbe avuto un impatto duraturo sulla storia e sull'interpretazione delle sacre scritture. Non solo un uomo di fede, Damaso era anche un apprezzato poeta. I suoi Carmina, scritti sulle tombe dei martiri, sono considerati capolavori poetici e fonti preziose di informazioni sulla vita dei martiri stessi. La sua eredità spirituale è ancora viva attraverso le sue opere e la sua dedizione alla Chiesa. La sua influenza si estende ben oltre il suo tempo e la sua figura rimane un faro di sapienza e devozione nella storia della Chiesa. San Damaso è importante principalmente perché ha svolto un ruolo cruciale nella storia della Chiesa, contribuendo in modo significativo alla sua evoluzione e influenza. Il suo impegno nella riforma della Chiesa, la promozione della formazione del clero e la traduzione della Bibbia in latino tramite San Girolamo, hanno plasmato profondamente il cristianesimo. Inoltre il suo ruolo come poeta e la sua produzione letteraria hanno arricchito la cultura e la conoscenza storica della vita dei martiri. La sua eredità spirituale e il suo impegno per la Chiesa lo rendono una figura di grande importanza e ispirazione per i credenti e ghili studiosi della storia religiosa. San Damaso rimane una figura eterna nella storia della Chiesa, un faro di saggezza e devozione che ha plasmato il corso del cristianesimo. Il suo impegno nella riforma della Chiesa, la sua dedizione alla promozione della conoscenza e della fede, insieme al suo lascito poetico, lo rendono un'icona immortale di ispirazione per generazioni di credenti. La sua eredità, intessuta di fede, cultura e zelo, continua a risplendere, guidando il cammino dei cercatori di verità e spiritualità lungo i secoli. San Damaso, un testimone intramontabile di sacrificio, conoscenza e amore per la Chiesa. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.